Locatelli comunque già un bel passo avanti l'edizione che hai ricordato tu erano quarti di finale questa è una semifinale ci mancherebbe li abbiamo azzeccati secondo te Claudio i rigoristi? sì secondo me sono quelli non ci scostiamo di molto penso stavo pensando ad altri perché i quattro sono anch'io quasi certo cioè Giorginio, Bonucci Berardi e Belotti tutti i rigoristi mi danno l'impressione lo sono Locatelli o Toloi ma cosa potrà mai dire si rigua Donnarumma cosa è che li potrà mai dire? beh sai tra portieri un incoraggiamento usa la testa dipende tutto proprio da Donnarumma perché insomma ragazzi poi sul computo dei portieri per carità Simone diciamo ha ha vinto la lotteria contro la Svizzera Donnarumma ha un discreto progresso sui rigori quindi vedo che c'è molta cogliardia adesso nella scelta tanto Bonucci scherzo tanto Chiellini sa di non calciare per cui dice guarda per me possiamo anche scherzare Chiellini non fare tanto lo spesso perché se vai poi a oltranza tocca calciarlo anche a te quindi attenzione vedo addirittura Donnarumma Silvio è disperato perché guarda che la via di Silvio è chiarissima gli ha ricordato in questo momento che cosa? dimmelo dimmelo c'è un giocatore che si chiama Romero c'è un giocatore che si chiama Romero che in Spagna ha esordito a 15 anni 219 giorni è cambiato a spagnolo no veramente caspita continuate perché ha portato bene fino adesso continuate perché ha portato bene sai che se che se Donnarumma vince fa il segno del 16 fa 5 c'è il 16 perché lui ha esordito a 16 anni ah si si se vince no se pare per la precisione lui ha esordito a 16 anni e 8 mesi per la precisione giusto giusto fa il segno del 16 sempre 16 quasi 17 quasi 17 cosa non si fa per prendere tempo e alleggerire la tensione vero ci si gioca la finale del campionato europeo ragazzi Italia Spagna i rigori battiamo prima noi dai Locatelli dai Locatelli batte il più giovane del gruppo ragazzi credo dei rigoristi Emanuele Locatelli Tiziano dai crediamoci loca loca telli telli c'è un po' di tensione sul volto c'è un po' di tensione eh si non lo vedo particolarmente sereno però va bene ci sta ci sta va bene ragazzi guffate pure così siamo fuori no 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 dopo guffiamo anche la spagna adesso si 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 uno si strappa bene va a tiare adesso adesso non esagerate vai Tiziano Locatelli contro Simone che gigioreggia sulla linea Simone Locatelli loca sparato bravi inizia male ragazzi chi sbaglia per primo perde è sempre così la regola chi sbaglia per primo perde cioè vince chi sbaglia per primo vince è sempre così va bene non è iniziata nel migliore dei modi la sequenza dei rigori Olmo la tira via fuori ha speso troppo dobbiamo recuperare dai Gigio in questo momento un rigore sbagliato ha speso troppo ha speso troppo Olmo anche Olmo lo vedo un po' teso contro tesissimo Olmo c'è che recoba sul guarda parala 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 fuori alto e te l'avevo detto e andiamo si mamma mia la sparata alto 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 si è visto Olmo tremava come una foglia sbaglia sbaglia la Spagna la possibile palla break per portarsi avanti di un rigore altissimo Olmo fuissimo e adesso Gallo Gallo Belotti non l'avevamo detto Belotti l'avevamo detto si si io non sono sicuro di Berardi come rigorista è rigorista lui però si ma ne ha sbagliati molti Tiziano Belotti Belotti Belo Belotti Buona parola per tutti Belo 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 C'è questa roba qua che si muove che sembra come giochini dell'una parte Belo 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 dai che gli sbagliano tutti tutti gli sbagliano questo qui niente zero ti vede la tensione si si è nervosissimo ma Gerardo Moreno ma di quelli da psicofarmaci proprio Mancino 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 vediamo un po' Moreno 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 a momenti la prende a momenti la prende c'era Donna Rumma con la mano di richiamo con la mano di richiamo è andata miseria guarda ha azzeccato l'angolo alzato il braccio di richiamo palla forte dai dai che tu secondo rigore segnato da entrambi uno a uno risultato tocca a noi con Bonucci dai iniziamo Bonucci dai Leo Bonucci dai Leo dai Leo dai Leo buono buono Bonucci ma è grosso anche questo qua eh una bestia Bonucci 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 C'è Bonucci bene bene tirato dalla grande questo qua tirato dalla grande questo Lorenzo preciso palla da una parte portiere dall'altra lui li ha sempre calciati stavo dicendo che era bravo lui li ha sempre calciati nelle serie finali io avevo grande fiducia in Bonucci perché è uno che si mette sempre questo qua mi è entrato male mi è entrato male Tiago Alcantara ma questo è nervoso Tiago mi è entrato male ma è nervosissimo mi pensavo di giocare con la punizione che ha calciato quella perciò feca mi pensavo di giocare esatto Tiziano Cantara gol piazza l'ha spiazzato per piazza Donnarummi perfetto tre rigori per parte due gol per parte un errore per parte siamo sempre in parità non ci schiodiamo da questa parità Bernardeschi quindi Bernardi a posto di Bernardeschi Bernardeschi attenzione perché dicono che il quarto rigore sia il più importante della serie è quello che può spostare l'equilibrio in vista dell'ultima ma lo dice la stessa regola di Lavia che chi sbaglia il primo poi vince no non lo so se abbiamo le stesse fonti Bernardeschi Tiziano vai Bernardeschi Bernardeschi gol 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 Berna Berna ha fatto la giocata bravo Bernardeschi ottimo rigore ottimo rigore preciso alto grandissimo che coraggio ad alzarla è lì wow mamma mia ragazzi non ci arriva mai un ai simoni grande rigore dai Italia avanti ha fatto la giocata Italia avanti Morata e lo sbaglia Morata lo sbaglia e lo sbaglia hai segnato già tu non stare niente a disturbare Morata ci ha castigato no no ci ha penetrato hai segnato già dai dai hai segnato già Alvarito basta per stasera è più che sufficiente Alvaro l'ha preso Donnarumma match point Italia parato grande parata qua grandissimo bravo Donnarumma indovina l'angolo e la fa sua dai chi c'è chi c'è per l'Italia se segniamo andiamo in finale dai Giorgino Giorgino credo Giorgino credo Giorgino adesso va a calciare vediamo Giorgino 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 non dite quello che state pensando no 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 non dite non dite Giorgino Giorgino Tiziano dai tutti con te Giorgino Giorgi 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 go Guardiamo il corrido! Goal! Goal! Goal Giorginio Giorginio è il finale D'Italia è il finale E' il gol, è il gol, è il gol È il gol ... Cosa ti avevo detto? Cosa ti avevo detto? I tagli in finale, Tiziano, i tagli in finale. Dai che l'abbiamo fatta. Chi sbaglia il primo vince. Cosa avevo detto? Io cazzo, sostituzione. Cosa avevo detto? Chi sbaglia il primo vince. Dove sei, Zulio? Eccoti qua. Sono andato a aprire le finestre. Sono andato a aprire le finestre. Grandi, grande, è qua. Sono dovuto mettere fuori le bandiere. Mamma, che sofferenza, ragazzi. Diciamo anche questo, che Giorginio, l'ultimo rigore che ha sbogliato era nel 36. Quindi se sbagliavano Giorginio, potevamo veramente chiudere Baracche e Burattini. Il terreno ha tirato un rigore. Ha tirato per me. Una freddezza enorme. La parata di Donnarumma e rigori di Giorginio. Stacchiamo il biglietto. Domenica in finale, su questo stesso campo, ci siamo noi. Grandi, bravi, bravi. E adesso tocca capire chi tra Inghilterra e Danimarca ci raggiunge nella finale di domenica sera.